L'urlo degli adulti Perché da parte mia come questore ho sicuramente dato dei dati, fortunatamente la nostra provincia non ha delle emergenze ma comunque ci sono segni anche di disagio giovanile, di grave difficoltà e di queste ore. Il termo di alcuni ragazzi che si sono resi autori di un grave gesto. I ragazzi meritano una grande attenzione però meritano anche un grande rispetto. Io quindi penso che l'urlo è degli adulti perché in fondo questa nostra società è una società che va migliorata, è una società che va riformata sotto dei valori diversi rispetto a quelli che abbiamo ora. Perché oggi aprire la televisione significa assistere a violenza, significa assistere a conferenze di operazione di polizia giudiziaria in cui si vedono persone che hanno delle grandi responsabilità coinvolte in fatti delinquenziali. Io credo che tutti questi messaggi sono dei messaggi devianti per i nostri giovani che vedono un futuro incerto, che vedono un futuro difficile, che è difficile per la situazione economica che praticamente li sovraccarica per gli anni che verranno di grandi responsabilità e anche di grandi debiti. Quindi io credo che noi adulti abbiamo il dovere di riformare questa società con principi eticamente forse più corretti rispetto a quelli passati, anzi sicuramente visto i risultati disastrosi di questa società che gli diamo. E il colloquio credo di questa sera che ha visto tanti genitori adulti e pochissimi giovani forse ci fa capire che con i giovani bisogna parlare più che dagli oratori, dal punto di vista formale, cercandoli e dove li possiamo cercare? Li possiamo cercare nelle scuole dove noi come autorità di polizia abbiamo organizzato dei corsi, li possiamo cercare nelle discoteche, insomma in tutti quei luoghi di aggregazione dove con i ragazzi si può dialogare. Però ripeto e concludo, io credo che noi adulti abbiamo il dovere grande della testimonianza. Tra la ricetta per risolvere i nostri problemi forse è proprio quella, amore, rispetto degli altri, soprattutto delle persone che non si possono difendere, soprattutto degli ultimi. erano presenti solo adulti, pochissimi giovani, pochissimi giovani. Secondo lei per quale motivo? Ma probabilmente perché questa sala non è uno spazio dei giovani, forse se eravamo a scuola o in luoghi di ritrovo di alcuni giovani li avremmo trovati. Forse bisognerebbe più che parlare di loro, parlare con loro e più che parlare con loro cominciare ad ascoltarli un po' e provare a guardare quali sono le strade nelle quali incontrarli. Nel corso della sua carriera ha notato delle differenze in questo disagio, cioè sono cambiate le problematiche o sono sempre le stesse problematiche che si ripetono? Io credo che sia cambiata la manifestazione delle problematiche, perché la crescita è comunque un momento di relativa difficoltà o comunque di cambiamento. Credo che nel tempo siano cambiati i sintomi che noi vediamo, per cui credo che in questo momento, per esempio, tutti i sintomi d'ansia siano molto espressi dai giovani, molto più di prima, per cui è molto più frequente vedere attacchi di panico o comunque altri disturbi legati all'ansia. L'altra cosa alla quale bisogna fare moltissima attenzione è proprio l'uso di sostanze, anche perché, come dicevo prima, le sostanze sono molto cambiate, quindi dire che un giovane fuma marijuana non è più quasi vero e questo espone i ragazzi a gravissimi rischi perché li espone a una molto maggior facilità di uso e continuità d'uso delle sostanze.